Musica Chi confessa deve essere un testimone della misericordia che fa udire la voce di Dio senza esercitare alcuna influenza sulle coscienze, specie dei più giovani. È l'invito del Papa ai partecipanti al 29esimo corso sul Foro Interno. Francesco ha ricevuto in udienza in Aula Polo VI 650 sacerdoti novelli e seminaristi all'ultimo anno. Il corso, conclusosi oggi, è stato dedicato al rapporto tra confessione e discernimento vocazionale. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Queste parole di San Paolo e i Romani sono state al centro della terza predica di Quaresima di Padre Cantalamessa in Vaticano alla presenza del Papa e della Curia Romana. Accanto alla carità San Paolo individua nell'umiltà la seconda direzione in cui lavorare per rinnovare nello spirito la propria vita ed edificare la comunità. L'umiltà è essenziale per la vita di comunità, per l'edificazione della Chiesa ed è una battaglia che dura tutta la vita. Viaggio apostolico di Papa Francesco nei paesi baltici dal 22 al 25 settembre 2018 visitando le città di Vilnius e Kaunas in Lituania, Riga a Glone in Lettonia e Tallin in Estonia. L'annuncio oggi. Siate testimoni della misericordia, siate umili ascoltatori dei giovani e della volontà di Dio per loro. Siate sempre rispettosi della coscienza e della libertà di chi si accosta al confessionale perché Dio stesso ama la loro libertà. È l'esortazione rivolta dal Papa ai partecipanti al 29esimo corso sul Foro Interno che quest'anno, guardando al prossimo sinodo sui giovani, ha affrontato il rapporto tra confessione sacramentale e discernimento vocazionale. Ai 650 giovani sacerdoti e futuri sacerdoti riuniti in Aula Paolo VI, il Santo Padre ha offerto alcuni consigli sulle attenzioni da avere nell'ascolto delle confessioni sacramentali, soprattutto dei giovani. Anzitutto direi che è necessario sempre riscoprire, come afferma Sant'Omasso d'Achino, la dimensione strumentale del nostro Ministero. Il sacerdote confessore non è la fonte della misericordia, né della grazia, né certo indispensabile l'istrumento, ma sempre solo strumento. E quando il sacerdote si impadronisce di questo, impedisce che Dio attui nei cuori. Questa consapevolezza deve favorire un'attenta vigilanza sul rischio di diventare i padroni delle coscienze, soprattutto nel rapporto con i giovani, la cui personalità è ancora in formazione e perciò molto più facilmente influenziabile. Ricordare di essere e dover essere solo strumenti della riconciliazione è il primo requisito per un atteggiamento di umile ascolto dello Spirito Santo che garantisce un autentico sforzo di discernimento. Essere strumenti è la piena realizzazione del Ministero, nota Francesco, nella misura in cui scompare il sacerdote e appare più chiaramente Cristo, sommo ed eterno sacerdote, si realizza la nostra vocazione di servi inutili. In secondo luogo, saper ascoltare le domande, prima di offrire le risposte. Dare risposte senza essersi preoccupati di ascoltare le domande dei giovani e, laddove è necessario, senza aver cercato di suscitare domande autentiche, sarebbe un atteggiamento sbagliato. Il confessore è chiamato a essere uomo dell'ascolto, ascolto umano del penitente e ascolto divino dello Spirito Santo, per cui ci poniamo in attenta obbedienza e offriamo il più grande servizio ai nostri giovani penitenti. Li mettiamo in contatto con Gesù stesso. Quando ricorrono questi due elementi, prosegue il Papa, il colloquio sacramentale può aprirsi davvero a quel cammino prudente e orante che è il discernimento vocazionale. Il colloquio della confessione diventa così occasione privilegiata di incontro, per porsi entrambi, penitente e confessore, in ascolto della volontà di Dio, scoprendo quale possa essere il suo progetto, indipendentemente dalla forma della vocazione. La vocazione, infatti, è il rapporto stesso con Gesù. Corrispondono alla realtà le categorie con le quali si difendisce il confessore, medico e giudice, pastore e padre, maestro ed educatore. Ma specialmente per i più giovani, il confessore è chiamato ad essere soprattutto un testimone. Testimone nel senso di martire, chiamato a compattire per i peccati dei fratelli come il Signore Gesù. E poi testimone della misericordia, di quel cuore del Vangelo che è l'abbraccio del padre al figlio prodigo che torna a casa. Il confessore testimone rende più efficace l'esperienza della misericordia, spalancando ai fedeli un orizzonte nuovo e grande che solo Dio può dare all'uomo. 29esimo corso sul fuori interno, un corso dedicato ai sacerdoti. Perché è importante formare i sacerdoti? È un corso, siamo arrivati appunto alla 29esima edizione, totalmente dedicato alla formazione del sacerdote in quanto confessore. Quindi tutti i temi che vengono trattati sono sempre temi che ruotano attorno al confessionale. Quindi la coscienza di amministrare la misericordia di Dio. Quindi prima di tutto proprio questa coscienza profonda di essere canali della misericordia di Dio. E poi diciamo anche l'arte, i contenuti è l'arte. L'arte nel saper accogliere, nel saper sentire le domande che vengono fatte in modo esplicito o che pure si sente che sono implicitamente nella persona. I consigli da dare in tutte le situazioni, la casistica anche perché un pochino di casistica nel sapere questi casi, questi casi, questi casi, le fasce di età, la confessione quindi dei bambini, la confessione dei giovani, delle persone sposate, dei sacerdoti, delle suore, insomma di tutte le categorie, le persone anziane, le persone scrupolose, le persone piuttosto lasse. Quindi un po' tutta la tipologia, abbracciare poi il contesto culturale nel quale ci troviamo. Quindi un osservatorio tutto particolare sulle coscienze e su tutto ciò che può aiutare il confessore ad aiutare a sua volta le coscienze. Quest'anno, siccome siamo in vista del Sinodo dei Vescovi sui giovani, abbiamo cercato di puntare molto la conversazione, l'attenzione, sui giovani e la confessione dei giovani e il discernimento vocazionale, che per vocazionale naturalmente non si intende soltanto, esclusivamente, quello verso il sacerdozio o verso la vita consacrata, ma anche verso il matrimonio, verso vocazioni specifiche che uno può avere nella società, nel portare il Vangelo in quell'ambiente, in quell'altro, in quell'altro ancora. Il Santo Padre vi ha incoraggiato in quest'opera, l'avete appena incontrato. Il Santo Padre è sempre stato molto interessato alla confessione, lo ha sempre detto, il suo largo discorso sulla misericordia, in fondo è un discorso molto vicino a quello della confessione sacramentale, ma ha sempre dimostrato, direi, molta vicinanza alla penitenzieria apostolica, tant'è vero che l'anno scorso aveva anche usato il termine nel salutarci, questo sì che è un tribunale che mi piace molto, quindi, voleva dire non delle nostre belle facce, ma del Tribunale della Misericordia, per cui è stato molto incoraggiante per tutti i partecipanti. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi, si è incentrata intorno a queste parole di San Paolo ai Romani, la terza predica di Quaresima di Padre Canta la Messa, nella Cappella Redentoris Mater in Vaticano, alla presenza del Papa e della Curia Romana. Non si tratta di raccomandazioni spicciole, alla moderazione e alla modestia, ha detto il predicatore, attraverso queste poche parole, l'Apostolo ci apre tutto il vasto orizzonte dell'umiltà. Accanto alla carità, San Paolo individua nell'umiltà il secondo valore, la direzione in cui si deve lavorare per rinnovare nello spirito la propria vita ed edificare la comunità. Umiltà, aggiunge Padre Canta la Messa, è scoprire che a causa del cattivo uso della nostra libertà siamo radicalmente superbi e che lo siamo per colpa nostra, non di Dio, perché lo siamo diventati facendo cattivo uso della nostra libertà. Aver scoperto questo traguardo o anche soltanto l'averlo intravisto è una grazia grande da una pace nuova, come chi in tempo di guerra ha scoperto che possiede sotto la sua casa un rifugio sicuro contro i bombardamenti. Padre Canta la Messa ricorda le parole di Sant'Angela da Foligno che esortava i suoi figli spirituali a sperimentare il proprio nulla. Solo Gesù può dichiararsi umile di cuore ed esserlo veramente. In Maria spiega poi il predicatore l'umiltà è un prodigio unico della grazia. Lo statuto della virtù dell'umiltà sottolinea poi è speciale, ce l'ha chi non crede di averla, non ce l'ha chi crede di averla. Non si può uccidere il proprio orgoglio da soli. A che punto siamo giunti in fatto di umiltà si vede quando l'iniziativa passa da noi agli altri, cioè quando non siamo più noi a riconoscere i nostri difetti e torti, ma sono gli altri a farlo, quando non siamo solo capaci di dirci la verità, ma anche di lasciarcela dire di buon grado da altri. Quella dell'umiltà, conclude il predicatore della Casa Pontificia, è una lotta che dura tutta la vita. L'orgoglio sopravvive in ogni situazione, in ogni clima. In questa battaglia Dio soccorre l'uomo con un rimedio. Perché l'uomo non monti in superbia, osserva Cantalamessa, Dio lo fissa al suolo, gli mette dei pesi ai fianchi. E questi fardelli possono essere un difetto, una malattia, una debolezza, che il Signore ci lascia. Pesi che hanno il potere di mettere a nudo la nostra fragilità, demolire la nostra presunzione. L'umiltà, conclude Cantalamessa, non è solo importante per il progresso personale nella via della santità, ma essenziale per la vita di comunità, per l'edificazione della Chiesa. Accogliendo l'invito dei rispettivi capi di Stato e Vescovi, Sua Santità Papa Francesco compirà un viaggio apostolico nei paesi baltici dal 22 al 25 settembre 2018, visitando le città di Vilnius e Kaunas in Lituania, Riga e Aglone in Lettonia e Tallin in Estonia. Lo ha risuonato oggi il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke. Il programma del viaggio sarà pubblicato prossimamente. Una terapia intensiva neonatale di ultima generazione è stata inaugurata ieri nella festa di San Giovanni di Dio, fondatore dell'ordine ospedaliero al Fatebene Fratelli all'isola Tiberina, a inaugurarla Rosario Fiorello. La terapia infatti è stata potenziata grazie ai contributi raccolti con le serate di solidarietà dell'artista ed è dotata della nuova tecnologia screen-to-screen di Philips, una novità assoluta in Italia. Queste sono le più grandi soddisfazioni che si possono avere in questo mestiere. Qua va bene l'applauso, fa piacere, ma quando riesci... Non so se riesco a farmi capire. C'è la soddisfazione di vedere un proietto, come dice lui, un proietto del genere, un progetto del genere con un reparto che serve a far star bene i bambini e soprattutto le famiglie dei bambini che lo stanno bene e c'è una piccolissima parte di te in questa cosa, la felicità diventa... Sono queste le vere soddisfazioni che può darti questo mestiere e oltre all'applauso del pubblico lo mandano a fare per il prossimo. La tecnologia Philips, con un sistema videoprotetto, consente ai genitori di controllare il loro bambino anche da casa o dal lavoro attraverso tablet o smartphone. Su ogni incubatrice è applicato un piccolo apparecchio wireless al quale i familiari potranno collegarsi dai loro dispositivi elettronici. Un sistema di illuminazione innovativo poi è studiato per rispettare i ritmi sonno-veglia dei piccoli pazienti. È una terapia intensiva dotata di altissima tecnologia ma che cerca di coniugare questa tecnologia col massimo dell'accoglienza. Noi infatti abbiamo la necessità di avere un'assistenza che sia centrata su tutta la famiglia. Oggi è impossibile assistere esclusivamente il neonato senza prendere in carico tutta la famiglia a 360 gradi. Grazie alla nuova tecnologia di cui ci siamo dotati, questa tecnologia screen to screen, noi non solo riusciamo a tenere i genitori all'interno del reparto e quindi in contatto con i loro bambini ma anche quando sono fuori per qualche motivo a causa eventualmente di problemi lavorativi, di problemi di assistenza a altri figli che sono a casa possono rimanere in contatto con una semplice applicazione che hanno sullo smartphone con il reparto e continuare a vedere i loro bambini da casa. La terapia intensiva neonatale del Fatebene Fratelli è la prima nel Lazio accessibile ai genitori 24 ore su 24 e assiste ogni anno circa 600 bambini di cui 400 prematuri. La nuova area con 16 culle per il ricovero intensivo e 13 per il non intensivo è un grande spazio aperto con monitoraggio centralizzato, un ambiente più confortevole per la permanenza di mamma e papà. Il valore primario fondamentale che ha questo è che possiamo mettere al servizio di questi bambini un reparto nuovo con nuova tecnologia ma sempre con lo stesso amore dei fatti bene fratelli. Il fatto che sia stato possibile anche con la solidarietà, l'aiuto di tante persone è anche un elemento che aggiunge un elemento di qualità, possiamo dire anche di ospitalità, nel senso che personaggi come Rosario Fiorello sia stato quasi innamorato di questo progetto abbia fatto tanti anni e continua a farlo per noi è anche un elemento che ci dà piacere, ci fa gioia perché è anche un esempio di solidarietà, di aiuto, di ospitalità. È un segno oggi nel nostro mondo un po' di dire guardate, non possiamo guardarci solo a noi, ci sono anche ante tante difficoltà e dobbiamo tutti aiutarci e collaborare. In questo senso è un grande segno di solidarietà. Osservatore romano con la data di sabato 10 marzo. Solo uno strumento della misericordia, il confessore secondo il Papa. Il presidente accetta di incontrare Kim Jong-un svolta tra Stati Uniti e Corea del Nord. Primi segnali di speranza per gli oltre 200.000 civili siriani intrappolati dai combattimenti 13 camion di aiuti entrano nel guta orientale alla plenaria della Pontificia Commissione per l'America Latina. Accordo di libero scambio firmato da 11 paesi il nuovo partenariato transpacifico. Francie a proposito di calcio. Ho scambio come in frazzi a proposito di cinque esistica. Grazie a tutti.